Lentini e furti in istituto scolastico all'interno di un'azienda e i carabinieri arrestano padre e figlio già agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Lentini hanno arrestato due pregiudicati del luogo, un 54enne e il figlio convivente 26enne, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere messo dalla Corte d'Appello di Catania. I due erano ai domiciliari dalla scorsa estate o dopo essere stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Carlentini e Lentini per dei furti in un istituto scolastico all'interno di un'azienda da cui avevano asportato gasolio. All'inizio del mese di dicembre i due non sono stati trovati nella loro abitazione nel corso di un controllo effettuato dai militari. La violazione è stata segnalata dall'autorità giudiziaria che ha disposto la sostituzione della misura con quella della custodia cautelare in carcere. Pertanto i due soggetti, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso il carcere di Siracusa a Cavadonna.